In questi ultimi anni i cambiamenti climatici hanno imposto a tutti noi la necessità di una maggiore attenzione ai nostri comportamenti, portandoci a una maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle risorse del pianeta in tutti i settori, compreso quello dell'abbigliamento sportivo. Picture Organic Clothing è un marchio nato nel 2008 da tre giovani amici francesi, Julien, Jérémy e Yvon Sain, che hanno voluto portare qualcosa di innovativo nel mondo dell'abbigliamento sportivo. L'obiettivo di questi tre ragazzi è quello di creare una nuova generazione di prodotti che non siano solo funzionali ed esteticamente alla moda, ma che aiutino anche a combattere i cambiamenti climatici. Abbiamo incontrato Julien Durand, CEO di Picture, per scoprire le evoluzioni di questo settore.